E se non sarà Fellini, Tette Siga o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà Quest'anno mi sono preso un giorno in più per citare Riccardo Fogli, ma comunque, finalmente, possiamo parlare, possiamo commentare questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, del Festival della Canzone Italiana Sanremo 2024. Sapete tutti com'è andata, com'è finita, ieri c'è stata poi una bellissima giornata su Rai 1, domenica in, con Maravenier, al di là poi delle polemiche che sono scaturite per quanto riguarda la guerra, per quanto riguarda il comunicato Rai, non mi esprimo assolutamente, credo che siano tematiche anche troppo delicate per parlarne come se niente fosse, come se stessimo parlando di un gioco, perché non è un gioco, quindi alzo le mani, dico solo che Mara non ha espresso un'opinione, ma ha semplicemente letto un comunicato, visto e considerato che lavora per la Rai e quindi non poteva fare altrimenti, per cui ho trovato indelicate le offese nei confronti di Mara, ma conosciamo i social. Comunque bellissima giornata a domenica in, tutti i cantanti sono andati ospiti, hanno cantato, seppur quasi tutti in playback, ma sappiamo che a domenica in funziona così, c'è stato poco tempo verso la fine, hanno avuto più spazio i cantanti che sono andati verso l'inizio, comunque entro metà, però in generale è stata una bellissima giornata sul Rai 1 a domenica in per celebrare questo festival di Sanremo, che ha vinto Angelina Mango e sono felicissimo di poterlo dire, di poterlo sottolineare, nonostante la noia di Angelina Mango a mio avviso non fosse la canzone più bella in gara, nonostante considerando la cinquina finale ci fossero secondo me due artisti che meritavano di più, cioè Irama e Annalisa, ho fatto un video in cui alla fine ho elencato anche la mia classifica, quindi ho espresso le mie opinioni, credo che la noia sia una buonissima canzone, sono felicissimo per Angelina, soprattutto per come si era messa la situazione, però obiettivamente secondo me c'erano anche delle canzoni più belle. C'è grande rammarico, lo dico anche da fan di Annalisa, perché ancora una volta lei non è riuscita a vincere, sesta partecipazione, ho riscontrato grande delusione da parte dei fan, ma secondo me non è questo l'atteggiamento giusto. Poi è girato anche il meme con gli occhi lucidi di Annalisa, comprensibilissimi al momento della premiazione, ma in realtà, come ha detto lei, sono pochi secondi all'interno di un contesto molto più ampio, sicuramente c'era delusione, c'era grande tensione, ma non è un discorso legato soltanto a sinceramente a questo festival, perché non credo fosse la canzone più bella e non credo dovesse vincere per forza, però sicuramente sesta partecipazione almeno due volte in questi 11 anni avrebbe meritato, e quindi ci speravamo, io l'ho capito diversi giorni fa che non sarebbe successo, forse già dalla seconda serata, però ci speravamo con tutto il cuore. Capisco il rammarico, ma allo stesso tempo chiedo a tutti i fan come me di questa straordinaria popstar italiana che sta facendo sempre più successo, che adesso arriverà anche a livello europeo, mondiale, internazionale, a farsi conoscere, a farsi amare, di restare equilibrati e di ricordarsi che Sanremo può valere tutto, ma può valere anche niente all'interno di una carriera, nella carriera di un artista, anche quando partecipi tante volte, ce l'hanno dimostrato i più grandi artisti, quelli che hanno partecipato una volta, quelli che non hanno mai partecipato, quelli che hanno partecipato tante volte senza mai avere fortuna, Annalisa resta, Annalisa va oltre il successo strepitoso di sinceramente, di tutto questo suo meraviglioso progetto, di questo suo percorso che va avanti, lo dimostra, ci vediamo in tour, in ali, perché io tornerò e non vedo l'ora dopo la meravigliosa esperienza del forum per questa straordinaria artista. Parlavo di artisti che magari hanno partecipato più volte al festival e in carriera non hanno avuto la fortuna che avrebbero meritato, e c'è un Mango che effettivamente è tra questi artisti, ed è Pino Mango, il grandissimo papà di Angelina, che ha partecipato diverse volte e non è mai arrivato dove avrebbe meritato, neanche nelle posizioni più alte. Non ricordo perfettamente se la posizione più alta sia stata forse un quinto posto, però veramente Mango dal festival è uno di quegli artisti che non hanno mai ricevuto quanto avrebbero meritato. E Angelina vince questo festival anche nel nome del padre, ma non per quello che pensate voi, non perché sia raccomandata o perché il cognome abbia influito. Il cognome può aver influito naturalmente per iniziare la carriera, per farsi conoscere, per entrare ad amici, ma se poi vai avanti, se poi fai successo, se poi vinci Sanremo, è perché sei brava, sei talentuosa, e Angelina è assolutamente un'artista degna di questo nome. Però perché ha vinto questo festival anche nel nome del padre? Perché nella serata cover, che è molto importante, nonostante sia stata, a mio avviso, immeritatamente vinta da Geolier con Guè, Lucchè e Gigi, lei ci ha emozionati con l'interpretazione struggente della rondine di Pino Mango, ha riportato sul palco dell'Ariston Pino e la sua meravigliosa musica e sicuramente ha vinto anche in virtù di quella meravigliosa interpretazione che avrebbe meritato di trionfare quella sera, ma nonostante non abbia vinto quella sera, poi si è creata anche una sorta di empatia tra l'Ariston e Angelina, tra il pubblico e Angelina, una standing ovation meravigliosa, tanti applausi anche quando è caduta molto simpaticamente, insomma è stato un piccolo incidente, ma si è rialzata anche con grandissima agilità. Sappiamo che lei poi ha un'energia pazzesca, una forza della natura e non solo perché ha vent'anni, perché queste poi sono caratteristiche che ti porti nel tempo ed è stata veramente accolta in maniera incredibile dal pubblico, nonostante lei fino a due anni fa la si conoscesse poco. Lei ha avuto successo la scorsa estate con Ci pensiamo domani, poi che te lo dico a fa, insomma con calma è diventata questa artista anche molto celebre e ha potuto vincere Sanremo, però si è creata una grandissima alchimia e credo che sia veramente qualcosa di speciale e ripeto non c'entra il cognome, c'entra il DNA sì, c'entra la meravigliosa interpretazione della rondine, c'entra papà Pino, c'entra assolutamente, ma non ci sono aiuti, non ci sono raccomandazioni, c'è soltanto tanto merito, le sue lacrime, la sua emozione, la sua commozione, il suo grazie urlato di fronte al pubblico dell'Ariston e con così tanta passione credo che ne sia veramente la dimostrazione più netta e lampante in senso assoluto ed è per questo che secondo me anche quest'anno ha vinto la musica al Festival di Sanremo. Va detto, per onestà intellettuale e per correttezza, che Angelina non ha vinto soltanto grazie al pubblico, ma ha vinto soprattutto grazie ai grandi consensi da parte della sala stampa che però non sono stati premeditati perché erano molto evidenti fin dalla prima serata, la sala stampa è stata molto chiara, è stata molto coerente nel bene e nel male, primo posto Loredana Bertè, secondo posto Angelina, terzo posto Annalisa, la prima serata. Poi Angelina sicuramente ha fatto grande successo anche grazie al pubblico, ha fatto molto bene nella serata cover nonostante non sia riuscita purtroppo a vincere e poi indubbiamente ha influito il voto dei giornalisti nella serata finale perché sappiamo che basandoci soltanto sul televoto avrebbe stravinto Géaulier. Non parlo della polemica sui voti, i voti che non partivano, i voti che non arrivavano, non sono riuscito a votare neanche io, ho provato a votare Annalisa in tutti i modi, me li hanno contati ieri giusto per farci pagare qualcosina, no sto scherzando ovviamente non voglio credere che non li abbiano contati e che adesso li stiano facendo valere per ovviamente farci pagare lo stesso, però sicuramente è stata una situazione complicata, giustificata anche dallo stesso Amadeus, dalla Rai eccetera, con il numero elevatissimo di voti che sono arrivati in questa serata, tra l'altro seguitissima, 74% di share, numeri impressionanti, anche semplicemente nel momento della premiazione, 90% di share in quel momento specifico. Un successo veramente impressionante che se non erro non si vedeva dal 1995 quando vinse Georgia con la meravigliosa Come saprei e che naturalmente sarà molto difficile ripetere per chiunque dovesse sostituire Amadeus, che adesso sembra chiaro che abbia finito anche giustamente il suo percorso a Sanremo con il grande Fiorello e con tutta la sua squadra che sicuramente ha svolto un grande lavoro in questi anni e lo confermano anche i numeri. Detto questo, ripeto, bisogna essere onesti, stando al televoto avrebbe vinto Geolier, ma io ritengo giusto, nel bene e nel male, che la sala stampa faccia la differenza. E lo dico perché nel 2019 ho sofferto io, ho pianto io da fan di Ultimo quando ho visto il suo clamoroso successo e la sua vittoria stabilita dal pubblico distrutta, negata da, secondo me, anche una preclusione, un odio nei suoi confronti. Sappiamo che lui non sta simpatico alla sala stampa, l'abbiamo visto anche l'anno scorso e quindi la volontà di far vincere Mamouda anche dalla cosiddetta giuria d'onore che poi fortunatamente non si è più vista negli anni e quindi una sorta di congiura nei suoi confronti. Io ero in quella posizione, capisco perfettamente, mettendomi nei panni di tutti i campani napoletani, ma tutti i fan di Geolier d'Italia che lo tifavano, che l'hanno votato e che speravano in una sua vittoria. Capisco cosa vuol dire, ma ripeto, nel bene e nel male, che ci faccia piacere o che ci faccia stare male, è sempre successo e credo che sia fondamentalmente anche giusto che il voto del pubblico non sia il solo a determinare una vittoria perché giustamente anche le giurie tecnicamente competenti, anche se non sempre lo sono, devono dire la loro, in questo caso c'erano anche le radio piuttosto che la demoscopica come accadeva negli scorsi anni, ma insomma credo che sia giusto così. Possiamo dire magari che dovrebbero ragionare in maniera meno politica senza farsi condizionare da simpatie, antipatie, senza fare tutta una serie di ragionamenti che poi portano a far vincere non magari chi merita in senso assoluto, ma chi loro vogliono vinca, però su questo non possiamo farci nulla. Non potevo farci niente io cinque anni fa, non potete farci niente voi oggi. E così, oggi sorrido io perché tifavo sicuramente altri artisti, nello specifico Annalisa, ma naturalmente anche Angelina, con una canzone che ho molto apprezzato e quindi tra i due, tra lei e Geolier, senza dubbio preferivo Angelina, cinque anni fa tanti godevano e sbeffeggiavano, ultimo che poi ha dimostrato tutta la sua grandezza al di là del festival, e sono convinto che anche Geolier continuerà a fare successo, Sanremo è solo una vetrina, mentre io sicuramente stavo male e non l'ho presa affatto bene anche perché lo boicottarono, come detto, quindi capisco la vostra posizione, ma non è una cosa fatta ad personam, non c'è razzismo, l'ho già detto nell'altro video, non voglio ripetermi, non è contro Geolier, è sempre così. Comunque ha vinto la musica ragazzi, perché ha vinto un'artista degna di questo nome, una ragazza giovane, 22 anni, che ha un talento cristallino, il cui cognome non ha influito, non ci sono raccomandazioni, ha vinto perché meritava, ha vinto una buonissima canzone che secondo me avrà anche delle possibilità all'Eurovision, per le sonorità che presenta, per quanto è brava lei a tenere il palco, per quanto è internazionale secondo me questa canzone, e quindi attenzione anche a questo discorso, speriamo che possa fare bene e che possa rappresentarci con orgoglio e con onore anche in tutto il mondo, lì in Svezia, a Malmo, naturalmente Angelina ha accettato di andare a rappresentare l'Italia all'Eurovision, e si conclude bene allora questo festival di Sanremo, perché al netto delle polemiche, al netto della salata cover, al netto comunque di una situazione geolier che non mi è piaciuta, perché è giusto che i fan lo votino, ma non è altrettanto giusto secondo me che si voti un artista soltanto perché napoletano, e soltanto perché doveva esserci questo presunto riscatto di Napoli, che poi non sarebbe stato tale, quindi secondo me c'è stata veramente da quel punto di vista una gestione pessima della situazione e quindi della sua possibile vittoria, è stato un bel festival con numeri impressionanti, con un bellissimo intrattenimento, con tante belle canzoni, con una serata cover al netto della vittoria finale meravigliosa, e con un Angelina Mango che ha meritato, con la noia che ha vinto Sanremo 2024, l'ultimo di Amadeus, e io sono felicissimo per lei. Sì, ti favo analisa, ma insomma va bene così, va bene Angelina, sono contentissimo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, noi per Sanremo ci rivediamo l'anno prossimo, Sanremo 20-25, ma ci vediamo presto per parlare di tanti tanti altri argomenti. Ciao a tutti e sempre viva la musica, sempre viva la musica che quest'anno al festival ha vinto.